Tropea e Taugui piazzati da Dagnolo in barriera, parte Semani col destro, mamma mia che gol che ha trovato il numero 8 e dimostra di avere il piede caldissimo da subito, due minuti e mezzo sul cronometro, golasso di Semani che in pratica toglie la ragnatera dal 7, vantaggio Decathlon